Domenica 28 giugno, Villa Giulia, io, la lirica, due arrose splendide, anche questa giornata è andata sana e salva, come dice la lirica, le potenti siamo noi. Giuseppe Risalvo. Ricordiamo anche lo slogan di Giuseppe Risalvo, arrose sì, ma contro la DC. Oggi dovremmo dire contro il nuovo centro-destra, solo con facciuti noi dovremmo aggiornare un pochino la situazione. Scusate, io ho mancato il teatro massimo da 40 anni, qualcuno che mi conosce dice, ma scusi Giuseppe, l'altra sera ti ho visto che hai visto Poltenia, sì, è vero. Vengo a teatro, perché la lirica, in questo nominio, mi viene dal lavoro che ho appunto per la lirica, per tutta la lirica che l'avevo anche nel 1976, quando fondai il fuori. Voi sapete che, siccome tu parli italiano all'interno del Pride, una volta che è Pride, dobbiamo portare avanti un po' quello che non tanto una volta è da corsobio, ma quello che è stato veramente, o quelli che sono stati sin dall'inizio, i luoghi della rivolta. Perché oggi, anche il teatro massimo, mancava da 40 anni, fu un luoghi della rivolta. Non, io ho scritto il libro, lo trovate online, ho portato qui, se lo trovo, prima che il cuore il fuori prendesse istituzione formale, con lo statuto, eccetera, eccetera, manca l'informazione. Vedete, questa prendanza è il novembre 76, il fuori, perché eravamo, c'è Salvatore Scardina, presente, Salvatore Alza, perché la cosa se lo vede, se ne avevo io, mamma.